9 persone sono rimaste uccise nelle proteste antigovernative della scorsa notte in Iran. Tra cui un bambino di 11 anni e un membro dei Guardiani della Rivoluzione. Lo riferisce il New York Times citando la TV di Stato iraniana. Sale cosa 20 il bilancio delle vittime di 6 giorni di scontri. La TV di Stato, prosegue il quotidiano new yorkese. Ha spiegato che sei manifestanti sono stati uccisi in un attacco ad un commissariato nella Città di Kadarijan. Le violenze si sono scatenate dopo che i rivoltosi avevano cercato di rubare pistole. Un bambino di 11 anni e un ventenne sono stati uccisi a Cominishar. Mentre un membro dei Guardiani della Rivoluzione morto a Naya Fabad. Ucciso da colpi esplosi da un fucile da caccia. Le tre citte si trovano nella provincia centrale di Isfahan. Circa 350 chilometri a sud di Teheran.